Venerdì 4 settembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Ancora la questione della gestione dell'acqua in primo piano. Sono ormai quasi una ventina i comuni che contestano l'istituzione dell'Egam, l'Ente, che nelle intenzioni della regione dovrebbe gestire il patrimonio idrico. L'avvocato Massimo Romano che cura il ricorso al TAR parla dell'Egam come di una scatola vuota. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Una scatola per il momento vuota ma che rischia di essere piena di sorprese, sorprese amare per tutti i molisani. Si tratta dell'Egam, l'ennesimo carrozzone pubblico messo in piedi dalla giunta regionale, forse per rispettare la standing review, come già successo per gli stipendi, le indennità dei portaborse e i 60 milioni arrivati da Roma per pagare i debiti della regione, utilizzati invece per pagare vitalizi, stipendi e indennità varie, tra cui premi di produzione ai massimi livelli puntualmente scattati per i dirigenti di una regione che a Roma piange miseria e a Campobasso spende e spande senza ritegno ma solo per la casta. Ma torniamo a Legam, l'ente fantasma messo in piedi dalla giunta frattura per espropriare dell'acqua pubblica tutti i comuni molisani. In sostanza l'unica risorsa naturale che il Molise possiede in abbondanza potrebbe essere privatizzata e finire così sotto le grinfie di una società di gestione, con costi inauditi per ogni consumatore molisano. Un esperimento del genere fu già tentato in Molise a Venafro, dove ancora si leccano le ferite per i 4 milioni di debito ereditati dalla Neptun. Ma cos'è Legam e quali pericoli nasconde? L'abbiamo chiesto a Massimo Romano, l'avvocato che difende 15 comuni che hanno deciso di dire no all'adesione forzata a Legam e hanno presentato ricorso. Glielo abbiamo chiesto vicino a Pietre Cadute, una sorgente naturale di Boiano, lì dove l'acqua oggi sgorga libera e lì dove rischiamo a breve di trovare un bel contatore del Legam. Ma che cosa si nasconde dietro questa siga così misteriosa, con una delibera regionale altrettanto misteriosa? Si nasconde innanzitutto un cambiamento epocale, la cui portata probabilmente si sta tentando di far passare un po' sotto silenzio. In realtà ciò che si innesca con la costituzione di questo ente di governo determinerà una vera e propria spoliazione di tutto ciò che afferisce alla gestione dell'acqua e quindi del servizio idrico dai comuni in favore di questo ente che francamente non si sa cosa sia né cosa sarà nelle intenzioni del legislatore regionale. E poi si registra una forma di ambiguità nell'utilizzo di alcune parole che vengono utilizzate o come spauracchio, pensiamo al discorso del commissariamento, come se il commissariamento fosse qualcosa di irreversibile rispetto invece ad un procedimento del tutto ordinario, oppure si utilizzano degli altri concetti per tranquillizzare in qualche modo anestetizzare i cittadini. Pensiamo a quando si dice no ma l'acqua è pubblica e resterà pubblica. Mi piacerebbe che qualcuno ci rassicurasse anche sul fatto che anche la gestione resterà pubblica anche in futuro, anche dopo l'EGAM. Però a queste questioni e domande mi sembra che restino solo punti interrogativi. Ma c'è ancora tempo. I sindaci possono dire no all'EGAM come dissero no anche alle biomasse ma c'è bisogno che la pubblica opinione capisca la gravità di quello che sta accadendo. Il problema è di sostanza perché l'acqua che è la più grande ricchezza del Molise può costituire in prospettiva un volano di ricchezza, di sviluppo e anche di occupazione in termini di ecosostenibilità. Se oggi ci si avvia in un percorso nel quale si cede, i comuni cedono sorgenti oltre che le proprie reti in favore di un soggetto che appunto nasce con mille punti interrogativi quello che si verifica è che i sindaci si spoglieranno di ogni facoltà e di ogni prerogativa rispetto, come diceva lei, alla tariffa ma anche rispetto alla gestione e un domani, qualora ad esempio intervenisse una decisione di gestione mista pubblico-privata come da qualche parte si va già vociferando o addirittura interamente privata i cittadini si ritroverebbero una sorpresa che è quella o in termini di tariffari con tariffe molto maggiori o addirittura scelte di contingentamento, di razionamento dell'acqua senza poter poi avere neppure un'interfaccia politico-istituzionale al quale chiedere conto. Allora rispetto a queste situazioni forse, anzi sicuramente, sarebbe stato necessario un dibattito che però avvenisse prima dell'adesione, non dopo, perché anche oggi l'adesione che si va a fare mi sembra che sia argomentata, spiegata o in qualche modo digerita sulla base di concetti che francamente non mi sembra siano molto chiari negli interlocutori e quindi c'è una sottovalutazione di un problema che invece rappresenterà un punto di svolta non soltanto per il singolo comune ma per l'intero territorio regionale. Migliorare la manutenzione delle strade periferiche di Larino con l'installazione di bande sonore sulle arterie viarie, il taglio dell'erba e un'adeguata illuminazione. Questo l'intento del sindaco Vincenzo Notarangelo, intenzionato a organizzare entro breve tempo una conferenza di servizi con gli enti competenti, ANAS, provincia di Campobasso e Consorzio di Bonifica. Le ultime due tragedie, quelle dei due gemelli, Antonello e Giovanni, e quella di Giorgia, la quindicenne investita domenica sera sulla provinciale, rappresentano un monito sulla situazione della periferia che non può restare inascoltato. Cambiamo argomento al Paleolitico di Isernia, è stata presentata la terza edizione della Passeggiata del Gusto, un itinerario alla scoperta del patrimonio storico e gastronomico della città. Il servizio è di Barbara Fino. Riscoprire gli antichi sentieri della transumanza, degustare i piatti tipici della tradizione e immergersi nella cultura dei secoli passati. Tutto questo nella Passeggiata del Gusto, che si terrà di Isernia domenica 6 settembre a cura di associazioni locali sportive, turistiche, agroalimentari, musicali di salvaguardia dell'ambiente. La Passeggiata del Gusto è un tassello del progetto Conifere che abbiamo ideato nel 2007. Questo progetto si articola su cinque filiere, quella energetica, sportiva, turistica, delle piante officinali e dei prodotti del sottobosco, in particolare tartufo. Allora, l'idea di fondo per quanto riguarda i prodotti del sottobosco è quella della costituzione di una riserva di tartufo. In Molise di riserve di tartufo ce n'è una sola. Noi con questa idea, questa riserva di tartufo, vogliamo dimostrare che una differente gestione della risorsa forestale che abbia come idea di base la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e delle risorse sia in grado di proteggere la risorsa e far sì che essa sia disponibile per tutti i cercatori della regione Molise in un lungo periodo di tempo. Una passeggiata di circa 7 chilometri tra sentieri, boschi e l'area preistorica di Isernia-La Pineta alla riscoperta del gusto, della storia e delle antiche tradizioni. Alle 9 visiteremo il Paleolitico, un'oretta e mezza di visita e poi ci incammineremo su una parte di tratturo in località La Pineta riscenderemo La Pineta per poi entrare in località Colle Lucido un'altra Pineta molto interessante, un sito SIC, quello della Pineta quindi un sito di interesse comunitario. Colle Lucido, rimboschimenti di conifere risalenti ai primi del Novecento faremo una sosta con una conazione tipica del pastore e poi ci incammineremo di nuovo verso il Paleolitico dove nell'edificio CERP pranzeremo. Tutto pronto a Santa Croce di Magliano per l'anteprima del progetto culturale che unisce l'Eddy Lang Jazz Festival e la Don Luigi Master Band. Il programma della giornata prevede alle 16 nell'auditorium del liceo scientifico le prove generali aperte agli studenti. In serata alle 21 in piazza Crapsi il concerto Luis Master Jets e a seguire l'esibizione del musicista Marco Zurzolo con la Master Band diretta dal maestro Roberto Di Carlo che ha coordinato l'evento. La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Santa Croce di Magliano e dell'ufficio scolastico regionale. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo il giornale del Molise.it come titola Lavoro e crescita al palo La Will avvisa il governo Frattura Sarà un autunno caldo è l'articolo a firma di Anna Maria Di Matteo Vediamo poi dopo le altre notizie sul giornale del Molise.it Pozzilli incendio al deposito dei rifiuti differenziati le ipotesi sulle cause del rogo Vasto incendio al nucleo industriale di Pozzilli in fiamme un deposito per la raccolta differenziata poi ciò che la politica non concede che è anche l'articolo che si trova all'interno di editoriali Idee e opinioni a firma di Claudio De Luca Ancora Egam e Bilancio a Isernia in tre mollano Brasiello poi Campomarino 52 migranti arrivano allo Sweet Dreams tra loro anche un gruppo di donne Sepino spara al fratello e lo ferisce per una questione di confini Ancora Venafro costringevano i bambini a chiedere l'elemosina denunciati tre romeni Trasporti il Frecciarossa non fermerà a Termoli monta la polemica poi si parla di scuola Per i docenti precari molisani previsto l'esodo Ancora ci sono le altre notizie Dunque come abbiamo visto editoriali Idee e opinioni e altre notizie ancora dalla regione ma anche dall'Italia e dal mondo Vediamo adesso primo piano molise come titola Deposito di rifiuti distrutto dalle fiamme rabbia e allarme tra la popolazione l'incendio nel nucleo industriale di Pozzilli domato dopo 5 ore di lavoro in azione decine di uomini e due elicotteri si teme il danno ambientale poi l'autunno caldo della Will pronta pure allo sciopero generale l'annuncio in occasione della visita di Carmelo Barbagallo che incalza il governo e il sud ritorni nell'agenda politica A Isernia è di nuovo crisi tre fedelissimi prendono le distanze da Brasiello Avicolli Di Placido e Mezzanotte Pallotta voteremo secondo coscienza Poi la cronaca litiga col fratello e gli spara arrestato la vittima a 61 anni e non è in pericolo di vita Michele Di Juorio invece è rinchiuso in carcere con l'accusa di tentato omicidio e è accaduto in una contrada di Sepino Poi spunta un compratore per lo zuccherificio del Molise una cordata anglo-tedesca decisa a investire 50 milioni intanto c'è l'ok dei creditori al concordato GAM Campobasso vivi la tua città tra il rilancio del commercio ed eventi per tutte le età con la Giovanni anticipa le novità del 12 settembre per quanto riguarda le notizie dall'Abruzzo da Vasto Trivelle in mare Desiati sfida il PD sulle royalties il ristoro vada ai comuni per quanto riguarda invece lo sport calcio Campobasso il lupo si presenta i tifosi Selvapiana ora è agibile la San Benedettese resta nel girone F eccellenza lavori al Cannarsa il Termoli debutta sul campo neutro di Guglionesi palla canestro serie B vasto si aggiudica il test amichevole contro Isernia da primo piano passiamo al quotidiano del Molise anche qui c'è questo titolo in evidenza nube tossica sul nucleo industriale pauroso incendio distrugge un deposito di stoccaggio di rifiuti della differenziata Pozzilli i carabinieri indagano sul rogo ore frenetiche per vigili del fuoco e agenti della forestale Frecciarossa commenti unanimi insieme per la difesa del Molise leva dice non può finire così la segreteria regionale del PD ha annunciato di volersi rivolgere direttamente al presidente Renzi tentato omicidio a Sepino spara una fucilata al fratello dopo l'ennesimo litigio Isernia tempi duri per il sindaco che perde tre pezzi da 90 ancora ieri a Campobasso il segretario nazionale della UIL Barbagallo che dice sfruttare al meglio le opportunità dell'area di crisi altrimenti alziamo le barricate per quanto riguarda lo sport calcio serie D Campobasso cresce l'attesa per l'esordio terminati i lavori allo stadio Isernia cinque reti nel test amichevole con il macchia per quanto riguarda l'eccellenza Termoli la prima si giocherà sul neutro di Guglionesi la gazzetta del Molise regione assente sarà sciopero generale questo è il titolo in evidenza la UIL continua a chiedere programmi l'Oscar del giorno a Corrado di Niro presidente dell'ACEM l'associazione dei costruttori edili mentre il tapiro del giorno ai fratelli Sabusco futuro Molise incendio a Pozzilli recupera i molisani SRL titolari dell'impianto in cui si è verificato l'incendio tranquillizza la popolazione preoccupazioni nella popolazione invece non informata dalle istituzioni sull'avvenuta sull'eventuale pericolosità di quanto avvenuto poi Campobasso tenta di uccidere il fratello 61enne volevo solo spaventarlo dal carcere si difende era venuto di nuovo ad aggredirmi Isernia Brasiello go home Brasiello va a casa c'è il rischio che il sindaco finisca qui il suo mandato tre consiglieri lasciano il gruppo del primo cittadino a pochi giorni dal voto sul bilancio di previsione le altre notizie ancora di futuro Molise Campobasso Will Boccardo pronti a sciopero generale segretario della Will servono risposte alle tante emergenze scuola CGL Molise insegnanti ricattati sindacato contro incarichi assegnati fuori regione ci sono poi le altre notizie di futuro Molise i quotidiani nazionali adesso partiamo con la repubblica migranti l'Europa si spacca a Budapest battaglia sui treni i paesi dell'est contro Germania Francia e Italia non alle quote obbligatorie il mondo sotto shock per il piccolo morto e il dolore di Cameron faremo di più e qui c'è la foto di Aylan e Galipi due fratellini siriani affogati due giorni fa a largo della Turchia svolta Merkel Berlino sceglie la faccia buona poi la ripresa rallenta Draghi pronto a nuovi aiuti la BCE rilancia i mercati anche il fondo monetario internazionale taglia le stime vediamo adesso come titola il corriere della sera l'Europa cambia passo sui migranti impegno Merkel Holland per la redistribuzione dei profughi calcoli su quote e sanzioni salgono a 160.000 i rifugiati da ricollocare 80.000 lascerebbero l'Italia Renzi dice doveroso agire segnali da Londra e poi c'è la storia Aylan sulla spiaggia davanti a noi quella foto ha lasciato un segno la ripresa è più debole Draghi pronti a reagire preoccupazione per la crisi cinese le borse volano e Francesco andò dall'ottico sotto casa il Papa sorprese in un negozio di Roma mi cambi le lenti dice la montatura la tengo e c'è questa foto passiamo adesso a vedere come titola la stampa anche qui la questione migranti in primo piano profughi siriani si muove l'Europa quote obbligatorie multe a chi rifiuta l'accoglienza dopo le photoshop anche Londra apre a Budapest ripartono i treni ma i convogli non vanno a ovest i vagoni si fermano al campo più vicino al confine poi racconto il papà di Aylan voglio riportarlo a Cobane il padre del piccolo morto annegato ha perso anche moglie e un altro figlio niente asilo in Canada torno indietro dice poi già 240 mila le vittime l'occidente le tre vie per fermare la guerra soluzione militare compromesso diplomatico aiuti umanitari finora scarsi risultati raggiunti e poi c'è questa foto quell'uomo dall'ottico è il papa Bergoglio va da solo a cambiare gli occhiali in un negozio di via del babbuino a Roma il fatto quotidiano i partiti costretti a dimagrire due per mille boom di donazioni ma per coprire tutte le spese ci vuole ben altro premier e tesoriere PD festeggiano per il mezzo milione di italiani che gli ha versato l'obolo della politica scrive il fatto quotidiano ma i conti non tornano per nessuno il finanziamento privato non basta a sostenere le strutture che amministrano e poi migranti Aylan Kurdi tre anni il bambino che forse cambierà l'Europa forse è tra parentesi dal fatto quotidiano a Libero ipocriti titolo forte di Libero la foto del bambino morto pubblicano un'immagine shock per far credere che a uccidere gli immigrati e chi si oppone all'accoglienza senza regole scrive Libero ma quel piccolo ce l'hanno sulla coscienza loro fuggiva dall'isis e da una guerra che proprio la sinistra ha favorito e non vuole risolvere Marino è pure indagato Roma lo fischia al voto rientro Amaro per il sindaco sotto l'aereo rientro dalle vacanze Ignazio trova la scorta e l'avviso di garanzia per la sua sparata i politici di destra tornino nelle fogne questo disse Marino vediamo adesso il tempo mezzogiorno di fuoco con Salvini Lega del Sud oggi il leader del Carroccio mi rompe al centro di Mineo va chiuso dice ecco il suo piano per il meridione coordinamenti ed eventi dall'Abruzzo alla Sicilia Marino torna dalle vacanze e va in piazza contestato e insultato dai cittadini il sindaco subacqueo riemerge tra i fischi e il titolo del tempo vediamo il mattino di Napoli l'orrore sveglia le cancellerie asse Merkel Holland quote obbligatorie e sanzioni a chi rifiuta Budapest assalto ai treni l'Europa interviene per portare a 160.000 il numero di migranti da ridistribuire tra tutti i paesi membri dal mattino adesso al secolo Draghi gela l'Eurozona la ripresa economica è ancora troppo lenta l'editoriale di Niccolo Silvestri vediamo avvenire il quotidiano dei Vescovi gli invasori il titolo Francia e Germania premono per un maggiore impegno dell'Unione europea scontri sui treni a Budapest migranti fermati in un campo profughi ci sono diverse foto qui anche soprattutto con bambini la gazzetta dello sport l'Italia in braccio a Pellè europeo brutta nazionale ma ora è prima nel girone di qualificazione all'europeo ci pensa sempre il centravanti che riesce a domare Malta con un tocco di gomito Conte sono contento dice il CT contava solo vincere poi i nostri avversari frenata la Croazia 0 a 0 si blocca Perisic Bella Norvegia derby romanista Zecco va in rete vince Nainggolan e la partita è Belgio Bosnia poi retroscena quella notte in cui Pogba disse no a Murigno e scelse la Juve nell'ultimo mercato il Chelsea offrì 85 milioni più un giocatore Paul Pogba decise di restare a Torino in alto il Milan si gode Balotelli golle assist è tornato i rossoneri vincono a Mantua 3 a 2 Galliani Mario eccitante Mijailovic problemi ovunque poi Inter che figura la difesa fa acqua Melo esordio ok Nerazzurri KO all'ecco 2 a 1 pochi titolari in tanti fuori ruolo Mancini si consola col brasiliano Bene Telles e poi Formula 1 Monza Vettel voglio il podio Mercedes da paura Hamilton si fa biondo basket europeo l'Italia ci crede un inserto speciale di 8 pagine all'interno della Gazzetta dello Sport e con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre alle 14 in diretta con il telegiornale grazie per averci seguito buona giornata Gazzetta dello Sport 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 Gazzetta dello Sport